Possiamo dire che il dado è definitivamente tratto, il Consiglio Comunale ha infatti approvato la delibera con la quale si istituisce la terza giostra, la giostra straordinaria per ovviamente il 2016, si correrà il 27 di agosto. Noi abbiamo sentito in questa seconda puntata della nostra trasmissione il mazzafrusto storia di giostra i pareri dei consiglieri comunali, rappresentanti dei vari gruppi che si sono espressi durante il dibattito e poi ovviamente in conclusione quella del vice sindaco Gamurrini, rappresentanza dell'amministrazione che ha proposto la delibera che poi è stata approvata. Una piccola considerazione a margine, assistendo all'interno dibattito che è durato circa un'ora e mezza, quasi due ore, si è colta comunque il fatto che forse il mondo della giostra ancora non è riuscito a permeare fino in fondo quello della città, della società e neanche fino in fondo di tutti i suoi rappresentanti, anche se ovviamente poi quelli che sono intervenuti sono quelli che hanno più attinenza con il mondo della giostra. Ma ascoltiamoci comunque questa raffica di pareri dei consiglieri comunali, dei rappresentanti dei gruppi. Di sfida di Buratto alla città di Arezzo. Il gruppo del Movimento 5 Stelle ha espresso voto favorevole sulla delibera che ha deciso per il 27 agosto la terza giostra pur facendo parte dell'opposizione. Prima di tutto la giostra del Saracino deve chiedere opinioni anche ai vari quartieri. I vari quartieri hanno risposto positivamente 3 su 4, quindi la maggioranza si è schierata a favore della terza giostra. Ora il punto che io pongo è, vogliamo risparmiare dei soldi pubblici per la giostra del Saracino? Sì. Ok, se vogliamo risparmiare i soldi pubblici dovremmo ritornare alle manifestazioni della giostra del Saracino a fine agosto e prime di settembre. Perché i costi maggiori che il Comune sostiene per la giostra sono relativi al montaggio e allo smontaggio delle tribune. Fare due eventi distaccati, uno a giugno, uno a settembre porta al raddoppio dei costi. Se vogliamo risparmiare ritorniamo al passato, fine agosto, prima di settembre. Altrimenti tutto il resto credo che siano polemiche sterili. Francesco Macri è, oltre che un esponente politico, anche una persona molto vicina alla giostra, lo sappiamo e l'abbiamo conosciuto spesso in questi anni. In qualche modo il richiamo era quello a ragionare di più nell'interesse della manifestazione e di meno in termini di appartenenza politica. Anch'io ho subito questo processo decisionale che secondo me poteva essere più aperto, arioso, inclusivo, più prudente. Poteva anche spaziare in fantasia ma coinvolgendo tutti gli attori istituzionali. La giostra è un patrimonio comune, sulla giostra come sulle regole di questo comune, lo statuto o il regolamento non ci si può dividere. Quindi non è stata una pagina bella quella di oggi che deve segnare la decisione sul fare o no la terza festa, la terza manifestazione più importante che abbiamo. In questo senso ho fatto un appello all'opposizione, al di là della più o meno giusta censura da rivolgere a chi ha preso con determinate modalità di questa decisione, si doveva ricercare l'unità. In qualche modo produciamo un male a una giostra che deve unire la città e non dividerla. Roberto Bardelli, per Forza Italia, ma in questo caso vogliamo interpretare anche il dibattito, consigliare come super parte, soprattutto perché il tuo intervento l'è stato. Puntare soprattutto su quello che è la possibilità di fare una terza giosta, quindi una festa grande per la città. Non è un mistero che per me la giostra del Sarascinto è la manifestazione più importante della città e deve fare da tratto d'unione a tutto quello che può essere il futuro della città. I quartieri li ritengo come incubatori sociali, quindi possono fare benissimo le funzioni che una volta erano delle circoscrizioni, ma anche proprio il sociale vero e proprio. Io l'ho detto senza nessun problema, ho passato l'intera infanzia al quartiere e sapere che si fa una terza giosta per me è stata una gioia. Nel suo intervento Giovanni Bonacci, che fa parte del gruppo di Oraghinelli, ha fatto anche un escursus, anche storico, anche sul rapporto tra la manifestazione e la religiosità. Ogni quartierista sa quanti elementi di contatto ci sono fra la massima manifestazione retina e appunto la simbologia religiosa. C'è un'attesa che attraverso una periodicità più o meno costante si corra una giosta straordinaria. Ho già enunciato quali potrebbero essere le prossime occasioni, la prima al 7 agosto del 2031, l'occasione della prima giosta dell'era moderna. Diciamo che i tempi da qui al 2031 sono assolutamente congrui con la cadenza tra i 10 e i 15 anni. Per il gruppo del PD, Alessandro Caneschi, il gruppo del PD ha presentato molte osservazioni critiche rispetto a questa proposta di delibera, poi arrivando alla votazione contraria. Sì, votazione contraria di cui siamo estremamente dispiaciuti. Sulla giostra le forze politiche non si erano mai divise e questo è un precedente davvero increscioso per la città. Non è una giostra nata dal basso, non c'è stata la condivisione iniziale con i quartieri, con i commercianti, con le forze politiche. Noi siamo stati solamente investiti in questo problema due giorni fa in commissione. Non è in questo modo che si parla di giostra. Marco Casucci per il gruppo della Lega Nord, d'altro Casucci è consigliere comunale ma anche consigliere regionale. Come gruppo della Lega Nord avete votato convintamente a favore della terza edizione? Assolutamente sì, riteniamo che sia stata veramente una grande idea di poter celebrare la terza giostra quest'anno collegandola al giubile della misericordia. La Lega Nord è sempre stata a favore delle manifestazioni e ha sempre cercato di trovare le forme più opportune per sostenerle e dargli forza. Questo assolutamente fa parte del nostro patrimonio culturale. Siamo con Francesco Romizzi che è stato anche assessore alla giostra e quindi intervenuto in un contesto, in un ambito che conosce bene, nel quale ha lavorato e che però ha espresso con decisione la sua contrarietà a questa ipotesi di terza giostra. Assolutamente un no convinto, nella forma e nel merito, nella forma perché è la prima volta da anni che sulla giostra la maggioranza ci costringe ad una divisione unita ovviamente al fatto che anche i quartieri non mi sembra abbiano salutato con estrema felicità questa notizia e questa scelta. Nella sostanza perché di fatto si decide di fare una terza giostra ma non si decide che caratteristiche ha questa terza giostra. Una giostra dedicata al giubileo, benissimo, una lancia d'oro che sarà quella che sarà, dopodiché qual è il progetto che sta dietro a parte l'evento e la manifestazione? Pacchetti turistici specifici, posti delle tribune dedicati ai turisti, prezzi stracciati per permettere le famiglie in difficoltà di Arezzo di partecipare, unione col polifonico che è nelle stesse date e quindi iniziative specifiche, nulla si sa. E quindi credo che per rispetto dei cittadini di Arezzo, perché la giostra non è né di destra né di sinistra, io credo che andava costruita in maniera nettamente diversa da come invece è stata fatta e quindi il mio convinto voto negativo. Con il vice sindaco e assessore delegato alla giostra Gianfrancesco Gamorini, commentiamo l'esito di questa votazione, 19 a 7, quindi diciamo la maggioranza è stata ampia, ampliata anche dai due voti dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, era l'esito che si aspettava da questa votazione? Ma dico sinceramente no, mi aspettavo qualche posizione contraria personale, ma non una posizione politica, in questo caso hanno votato compattamente contro il PD e il movimento rappresentato da Francesco Romizzi, quindi evidentemente hanno preso una posizione politica e non personale. Ovviamente fatto questo passaggio si entra nella fase operativa per organizzarla questa giostra, ecco qui a che punto siamo? La questione dell'ampiamento della tribuna per quest'altro non è saltata per tutta una serie di motivi e quindi andremo per il 2017 presumibilmente, mentre per tutti gli altri aspetti si tratta sostanzialmente di allungare il tempo di montaggio e di smontaggio, quindi fare un bandadoc per le due giostre vicine, quella di agosto e quella di settembre, per il resto più o meno è tutto consolidato. Semmai la difficoltà maggiore sarà per l'aspetto della regia e della divulgazione delle immagini sul quale stiamo lavorando, proprio per verificare l'opportunità di fare delle riprese televisive in 4K, una regia nuova e la divulgazione sia sul territorio nazionale ma anche su quello estero delle immagini della giostra del Saraceno. Su questo ovviamente tocca un caso sul quale noi siamo particolarmente sensibili. Se uno dovesse scegliere direttamente un soggetto probabilmente sarebbe molto più agevole la cosa, invece dovendo andare con dei bandi crediamo che sia abbastanza complesso, anche per la questione dei costi che sicuramente sarà maggiore per le istituzioni giostra, che però in qualche modo penso che verranno appianati da un lato dalla terza edizione della giostra che avrà degli introiti maggiori, dall'altro dal fatto che quest'anno i biglietti hanno subito un aumento quindi sicuramente ci saranno degli introiti maggiori per l'istituzione. E dopo aver ascoltato una serie di pareri relativi appunto ai rappresentanti dei gruppi politici adesso cerchiamo di capire invece quali sono le perplessità che sono emerse da una parte del mondo della giostra l'abbiamo fatto ascoltando i rappresentanti dell'associazione Amici della Giostra che saranno poi i protagonisti della nostra trasmissione la prossima settimana. Iniziamo con Giancarlo Felici. Diciamo che non siamo favorevoli per niente, soprattutto perché due giostre in un anno sono già più che sufficienti. Non ci deve infrazionare uno spettacolo. Lo spettacolo deve essere desiderato, deve essere aspettato con ansia quando arriva questa giostra. No, ogni minuto c'è una giostra, non ha senso. Per me non ho capito questa insistenza anche se fra le varie cose forse è economica e basta. Sergio Nasi. Beh, quanto dice Giancarlo è stato ampiamente detto precedentemente nei giornali eccetera. Ma quello che poi rientra è il fatto che il sindaco ha preso una decisione ancora prima di sentire il Consiglio Comunale. Quindi questo ci rende un pochino indecisi, intitubanti, del fatto che è stata voluta per forza, come mai chi l'ha decisa eccetera. Ecco, Giorgio Marmonini chiedo se il fatto che un quartiere abbia manifestato in maniera così anche plateale la sua contrarietà possa incidere in qualche modo poi sulla manifestazione oppure se alla fine tutto rientrerà nei canoni. No, no, quello non incide. Il problema è che di straordinaria, a parte quella dell'Olimpiadi che è lontana, noi abbiamo vissuto quella che ha coinciso con la visita del Presidente della Repubblica Pertini nel 1984. Ero parte in causa, ti posso dire che per esempio su quella giostra in caso di maltempo dopo aver fatto le prove durante la settimana non si sarebbe ripetuta perché era proprio legata alla presenza di Pertini. Quindi grande entusiasmo verso questo evento e la gente disposta a mettere tanto lavoro per non fare la giostra in caso di maltempo addirittura. L'altra, il nuovo millennio, le cento giostre, non era discutibile assolutamente. Qui le motivazioni non ci sono, la motivazione religiosa è venuta meno, abbiamo sentito anche le dichiarazioni del Vescovo, di altri che non hanno visto entusiasmo. Nei quartieri c'è un quartiere che si è dichiarato contrario, l'ha fatto mettere a verbale, ma gli altri hanno sollevato perplessità comunque. Nell'ambiente giostra, noi che siamo l'associazione, che siamo ex-rettori, capitani, registi, magistrati, non ne ravvediamo la necessità. Quindi a noi ci rimane difficile capire perché tanta attestandaggine per andare in questa direzione. Poi i risultati, se si vuole fare una terza giostra per promuovere la giostra, mi sembra che all'ultimo momento, così non ci sono i tempi, non c'è le situazioni. È stato aumentato il costo dei biglietti, quindi sarà ancora più difficile metterle insieme. Io e Giancarlo nell'anno 90 facciamo parte dell'istituzione che staccò le due giostre per creare un periodo giugno-settembre. Ma anche perché due giostre attaccate, la seconda diventava una vendetta della prima. Dal punto di vista dell'ordine pubblico non è di facile gestione questa situazione. Più siamo andati sopra manifestazioni già programmate che si stavano facendo in Piazza Grande, nel periodo di Ferragosto, da Ascom e dai commercianti della piazza. È tutta una situazione che al momento mi sembra un po' ingarbugliata e comunque una forzatura. Marco Rosati. La terza giostra si farà, ormai è deciso. L'unica cosa che dovrebbe essere, secondo me, una giostra caratterizzata in maniera diversa, cosa che invece diventa un doppione, un triplone delle altre due. Riuscendo a caratterizzarla, a dargli una connotazione diversa, un qualcosa, come diceva Giorgio, come la giostra di Pia, in onore della presenza del Presidente Perico, trovare e riuscire in questi mesi a differenziare questa giostra. Paolo Nocentini. Io credo che sarà difficile differenziare questa giostra. Credo che per come è partita è stata posta male. Credo che a quello che si è letto nella stampa non ci sia stata nemmeno la partenza, ovvero il coinvolgimento diretto in primis da parte dei quartieri, perché quando un quartiere ti vota contro ad una giostra straordinaria vuol dire che qualche problema c'è e quindi probabilmente questa situazione doveva essere affrontata precedentemente, prima che uscisse fuori. Probabilmente è stata calata dall'alto, ai quartieri è stata calata dall'alto. A questo punto si fa perché non ci si può più tirare indietro, però credo che le problematiche siano molteplici. Si conclude qui anche questa seconda puntata del Mazzafrusto e quindi da adesso in poi considerate le nostre puntate una lunga volata verso la prima giostra di giugno e poi le due edizioni di fine agosto e primi di settembre. Grazie per l'attenzione e appuntamento fra sette giorni.